Il Presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, ha ricevuto una delegazione di parlamentari dei paesi BRICS. Nel corso dei 15 anni della sua esistenza, l'organizzazione è diventata un esempio di cooperazione interstatale reciprocamente vantaggiosa, ha osservato il relatore. Nell'ultimo anno, tre paesi BRICS, India, Cina e Russia, sono diventati i leader della crescita economica e si sono situati tra le prime cinque potenze del mondo. I paesi BRICS si stanno sviluppando in modo dinamico, sulla base del rispetto reciproco e senza interferire negli affari degli stati sovrani. I parlamentari dei paesi BRICS hanno anche incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha chiesto maggiori sforzi per combattere il terrorismo. I recenti tragici eventi del Crocus City Hall, ha sottolineato Lavrov, hanno dimostrato ancora una volta la necessità di intensificare gli sforzi congiunti per contrastare questo male globale. Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco agli impianti energetici ucraini. Di conseguenza, una gran parte del lavoro degli stabilimenti militari in Ucraina e delle manovre di trasferimento di soldati di riserva al fronte è stato interrotto. Inoltre, sono stati distrutti tre depositi di armi e munizioni. Il Parlamento ucraino ha approvato la legge sull'inasprimento della mobilitazione. La legge libererà ulteriormente le mani dei commissari militari, aumenterà le punizioni per l'evasione e amplierà le categorie delle persone che saranno inviate al fronte. Le nuove norme introdurranno il controllo totale su tutte le persone obbligate al servizio militare, che dovranno sempre portare con sé una carta di identità militare e registrarsi presso gli uffici di registrazione e arruolamento. La situazione nella striscia di Gaza è catastrofica. Migliaia di bambini palestinesi sono già stati uccisi e nel mondo arabo si parla sempre più spesso di vero e proprio genocidio. Al riguardo, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, risponde sempre in modo evasivo. Ma il presidente Biden sembra aver cambiato la sua retorica con la proposta di un cessate il fuoco e con un sostegno meno ardente agli alleati israeliani. Oggi, 11 aprile, è la giornata internazionale della liberazione dei prigionieri dei campi di concentramento nazisti. La data non era stata scelta a caso. Era precisamente l'11 aprile del 1945, quando a Buchenwald, una delle più grandi fabbriche di morte dei nazisti, ebbe luogo una rivolta di prigionieri. Eventi commemorativi si sono svolti oggi in diverse città della Russia. A San Pietroburgo, nel memoriale del parco di Krasnoye Selo, molte persone, compresse ex prigionieri, hanno deposto fiori ai piedi del monumento. Un altro evento commemorativo si è svoltò anche a Krasnogorsk vicino a Mosca.